Non mi voglio far vedere in faccia. Mi vergogno perché non riesco a capire le regole di terraforming Mars. Così ho scritto ad Angela e Dave Borghi. Tieni. Grazie. Ciao ragazzi, bentornati su D&D Borghi. Oggi andremo a parlare di un gioco che non ha gran bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di un gioco di terraformazione. Parliamo di terraforming Mars. Grazie a Angela e Dave Borghi e al suo libro Ora posso finalmente giocare a terraforming Mars. Grazie a Angela e Dave Borghi. Non so, grazie, zero sono. Ah, non so. Ti potrei chiedere. Ah, sì, a Dave. Pronto, Nick? Ciao Dave, ascolta, ho problemi per il gioco di stasera. Siamo in 4-5. Ok, arrivo. Ottimo, va bene. Allora, sì, se vieni qua che mi dai una mano perché non so come fare. Dammi un secondo e ci sono. Grazie, grazie. Ciao. Vieni, Nick. Ui, bello questo. Ti puoi aiutare? Cavolo. Ah, ma c'è anche il QR code. Vai. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul Dungeon & Dave. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul Dungeon & Dave. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.